Questa intervista vi è offerta da Campani Group e sei sulla buona strada Allora Francesco, si è vicini, buongiorno, benvenuto, ben trovato Buongiorno, come state? Noi belone, tu come stai? Benissimo, bene, con gli occhiali Con gli occhiali da sole, hai fatto un po' tardi stanotte No, ieri sono stato con Biagio, ho passato una serata bellissima, eravamo a Bologna Anzi lo saluto, ciao Biagio Ciao Biagio, ci ascolta Allora adesso c'ho gli occhi un po' abbottati Ma non per colpa di cose Pensate alle ragazze dall'altra parte, a immaginare Renka e Biagio insieme a Bologna Di dove siete andati? Ma figurati, eravamo Potete sapere La cosa che stanno dicendo, e non ci avete detto niente, non ci avete nemmeno invitato No, guarda, è stato lui, è stato gentissimo, siamo andati a cena in un posto meraviglioso Lì vicino a casa sua e poi siamo stati su, insomma, bellissima serata Poi la serata ha preso una deriva improvvisa e non mi ricordo più nulla effettivamente Ma non è vero, una volta, una volta No, senti ma non è che tra un bicchiere e l'altro sei deciso di collaborare, c'è qualcosa in vista Magari, magari, ma tanto non te lo direi mai, lo sai Sì esatto, però ci ho provato perché vale sempre la pena Però è sempre bello incontrarlo E ci credo, anche quando viene qui Scriverò il tuo nome live il titolo del nuovo album, anche del tour nei Palasport, abbiamo visto che ha debuttato a Milano 16 brani live, 3 inediti Dici qualcosa di più, anche perché è il primo album live Un live che faccio dopo 34, quasi 35 anni, in realtà, di concerti E me lo sono chiesto anche io il motivo per il quale non era ancora uscito un live In realtà credo che questo fosse il momento giusto Io non ho mai fatto le corse Ho sempre pensato che le cose arrivino quando poi devono arrivare E questo qua è il momento giusto È un tour speciale, è un tour magico, è un tour incredibilmente bello Pensato per la gente, per il pubblico Per fare in modo che sia una festa alla quale la gente si senta non semplicemente invitata Ma partecipe di uno spettacolo Quindi era tutto così perfetto che andava fermato in un disco, in un CD Perché l'hai chiamato come l'album precedente aggiungendo solo live e non un nuovo titolo? Perché era in realtà figlio di questo progetto che era Schiverò il tuo nome Quindi era in realtà figlio di quel tour Perché è stato registrato durante l'autunno scorso Nelle date nei palazzetti Quindi era giusto che avesse quel nome Poi gli inediti Quando raccontai l'uscita di Schiverò il tuo nome Ne parlavo come una sorta di fotografia in divenire Quindi in realtà non fermava un momento Ma un passaggio, un movimento fermava E questi inediti E soprattutto quello che ha anticipato questo live Nuova Luce E credo stigmatizza esattamente questo percorso È un upgrade Quindi era un disco aperto E forse questo live diciamo che lo conclude, lo chiude Non credo che sia un caso il fatto che il disco esca in doppio formato Quello standard Bravissimo Ho avuto anche questa possibilità grazie alla Sony Che abbina tutti e due Il live e l'originale Esatto, con una spesa minima si può avere un prodotto molto molto bello Anche dal punto di vista proprio fisico come oggetto È un formato particolare, un digipack che contiene sia il Schiverò il tuo nome nella versione Deluxe Che uscì un anno e qualcosa fa E questo CD live Un'occhiata alle date del turno di Palasport Il 16 maggio sarà a Napoli 18 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze 20 maggio sarà la volta di Torino 22 maggio Unipol Arena di Bologna Con un altro amico che viene a trovarmi Luca Carboni che è invitato a fare una cosa molto bella Io ovviamente ero fan fin da piccolo Quindi c'è questa cosa che ci siamo ritrovati in un posto a fare una cosa E gli ho chiesto ma devo venire a Bologna Lui è anche lui uno dei simboli di questa città Quindi sono molto felice di ospitarlo Senti invece come mai a Firenze l'ospitata di Giorgio Farnariello Non è esattamente un cantante No sono tutti amici in realtà Io credo che le collaborazioni siano più interessanti Anche quando vanno oltre diciamo l'aspetto artistico C'è un legame con Giorgio umano Lo conosco bene È un amico È una persona di una Simpatico, divertente È incredibile Quindi sarà una sorpresa Anche quello sarà una cosa Poi tra l'altro lui canta Canta, sì, l'abbiamo visto fare Renato Zero Noi lo conosciamo quando fa l'imitazione Quando fa Renato E francamente è abbastanza la fotocopia Per cui immagino abbia le caratteristiche Ci divertiamo Come definiresti questo momento per te? Professionale e personale? Io credo che sia un momento felice Non lo trovo un altro termine In realtà è un momento sereno Di grande lavoro, grande impegno Ed è un momento che volevo Appunto fermare anche per Non solo fare il punto della situazione Ma per ringraziare insomma tutte le persone Che poi insieme con me hanno contribuito A questo momento Quindi le cose, i sogni si avverano Partono da soli Cioè tu il sogno te lo fai da solo Però poi lo realizzi grazie ad altre persone Quindi i miei collaboratori, la mia casa discografica La mia agenzia, il mio management E soprattutto il pubblico Anche per questo il live era perfetto in questo momento Perché è un modo per renderli partecipi Di questo sogno che si avvera Quindi sentire loro 12.000 persone che cantano le tue canzoni E per loro suppongo Riascoltarsi in questo disco È emozionante No ma si vede che stai bene Guarda perché c'è proprio una nuova luce Nei tuoi occhi Che proprio lo fa capire più gli occhiali Ecco se togli gli occhiali si vede ancora meglio È modo per presentare la canzone La nuova luce Francesco Renga L'abbiamo ascoltata a versione live Ma sì qui c'è la riprise I saluti I gridolini della bolla pestante La gente che canta Ci stava raccontando delle cose Francesco Di quello che succede ai concerti In parte te l'aspetti In parte un po' Ti sorpreso soprattutto quando ti rendi conto di chi è autore No perché stavamo dicendo che c'è una In questo live appunto così speciale Così magico Per diciamo supplire alla distanza Che ovviamente nel palazzetto si crea Tra il pubblico appunto e il palco C'è un momento in cui io scendo proprio Tra la gente Faccio una parte della scaletta Seduto in mezzo all'oro Come se fosse una sala prove Tutti in moli In moti sacrifici No sono sempre molto educati Ovviamente si succedono Durante il percorso Diciamo che ti accompagnano Esatto Ti spingono anche da dietro Diciamo talvolta E non proprio dalla schiena Corretto? Sì perché poi Sei lì nel casino No però questo qui è un momento in realtà Molto bello e molto emozionante Che è un escamotaggio appunto Per ridurre questa distanza Che nel palazzetto ovviamente È inevitabile Quindi c'è questo momento È abbastanza teatrale Perché viene allestito Un palco in mezzo alla gente In tempo reale Quindi mentre io Sono sul palco A Ci sono delle Ed è bello Poi fare questa È un modo anche quello Per renderli partecipi Perché poi loro sono Sono lontani Intorno a te Quindi sei Davanti Di fianco Di dietro Ti circondano insomma Ti portiamo i saluti Allora delle Rengas Angel Che ci hanno scritto 125 messaggi E promettono di non abbandonarti mai Poi ci sono Le renghine Sì Le renghine E la Lorenza Roberta Cinzia Perla Tantissime Sono tutte Sono tutte speciali Senti Francesco Io ti volevo chiedere In tema di collaborazione C'è ne una Della quale hai parlato Sempre benissimo Non bene Ed è quella con Elodie Perché poi ce ne sono varie Con Elodie Che tra le altre cose Mi accompagna in queste date Nei palazzetti Elodie è un'artista giovanissima Ovviamente Bravissima Abbiamo fatto un duetto Incredibile Sorprendente Io Tutte le volte che Mi è capitato Mi è capitato anche con Alessandra Con Amoroso Di fare Un duetto Lo faccio sempre ovviamente Quando pensi una cosa Te la immagini In un modo Ovviamente pensi che sia una bella cosa Quindi al di là del feeling Tra virgolette Artistico E umano Che è il presupposto Per fare un duetto Poi non sai in realtà Quale sarà il risultato Rimango sempre sconvolto Sorpreso Dalla bellezza Di queste cose Cioè Il duetto con Elodie È speciale È qualcosa di bellissimo E sul palco Quando ricreiamo questo momento È veramente un momento Anche lì Di grande magia Come direbbe il mio produttore Io l'ascolterei Io direi che a questo punto Ci ha ingolosito A sufficienza Non ci resta che ascoltarla Questa canzone Che si chiama Così diversa Così diversa Mi piace fare i concerti Non dico quella che non manca mai In scale No Ce ne sono tante Però adesso Ultima A parte questo duetto Che prima appunto Cantichiamo Perché mi piace La sorpresa Rivivere quella sorpresa Ogni volta sul palco Insieme con Elodie Secondo me Quello che in questo momento Mi intriga di più Che era anche una scommessa È appunto Nuova luce Che è un pezzo Nuovo Mosso Dal punto di vista Anche proprio Della scrittura Del testo Del linguaggio E mi incuriosiva Il risultato Dal vivo Ed è Una botta Quindi sono molto felice Anche se È difficilissimo Perché Da cantare È una Non è fatto Essendo così serrato Poi sul palco Ovviamente devi Muoverti E Se non si è allenato Per quello che vai in palestra Arriviamo con quel fiatone Senti Chiudiamo Questo appuntamento Con un regalone Con un regalo Che riguarda la data Del 22 maggio All'Unipol Arena Di Bologna Perché più veloci Di voi Avranno la possibilità Di aggiudicarsi Una coppia Di biglietti Per questa data Quindi Ricordiamo 348 255 9999 Scrivete subito Veloci con i messaggi È finita Facciamo che torni Magari torni A Radio Estate Sarebbe ancora meglio Trociamo le dita Che tu abbia una data libera Perché tu resti È bello ricco Grazie a Francesco Grazie a tutti Ciao 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 Questa intervista è stata offerta da Campani Group E sei sulla buona strada Radio Bruno